Rispondo in prima persona al continuo bisbigliare di questi giorni senza illudermi di dissipare dubbi o annullare giudizi oltremodo sanzionatori sul mio percorso politico. A scrivere è Massimo Laporta, candidato a sindaco per le prossime amministrative nella città di Agropoli. La domanda ricorrente è perché separarsi ora dopo 15 anni insieme? Potrei rispondere semplicemente che può accadere anche nelle migliori e più consolidate relazioni, ma voglio essere puntuale e serio. I primi dieci anni della mia storia politica sono stati impegnati nella modernizzazione della città di Agropoli e, nonostante gli onerosi investimenti dell'ente e le criticità esistenti, vedere cambiare e crescere la città rappresentava una forte motivazione per andare avanti, nell'ottica del miglioramento costante. Con l'inizio della consigliatura 2017 e la condivisione di un nuovo progetto Agropoli Oltre continua alla porta, ho auspicato che quegli investimenti onerosi venissero valorizzati per dare ulteriore impulso alla crescita economica, sociale e culturale della città e per equilibrare il rapporto investimenti-profitti, trasformandoli in nuovi e più efficaci ed efficienti servizi ai cittadini. Ho sempre sostenuto la necessità di essere una squadra di lavoro, coesa ed impegnata, per promuovere e sollecitare un lavoro di squadra che consentisse di raggiungere gli obiettivi programmati. Chi mi conosce sa bene il tempo speso a ribadire tali esigenze, pensando di poter determinare un cambiamento restando all'interno dell'amministrazione. Ma sono rimasto pressoché solo, a parte gli amici fedeli, basti pensare alla scelta dell'amico assessore Roberto Mutalipassi. Ora sbagliare umano, perseverare e diabolico. Restare dove tutto vuole rimanere immobile nella pianificazione e nella gestione della cosa pubblica, pur rilevandone le criticità, non poteva più essere tollerato. Così ho fatto la mia scelta, ben consapevole dei dubbi, delle accuse e delle ingiurie di cui sarei stato destinatario. Le comprendo fino ad un certo punto, ma non passerò il mio tempo a presentare giustificazioni. Come già detto, anche le migliori relazioni possono finire se non si hanno più obiettivi in comune. Oggi voglio solo provare a portare avanti un progetto diverso che metta al centro le persone, le loro qualità e competenze per creare una squadra di lavoro che possa far crescere la nostra città. È un'opportunità, lascio ai cittadini la libertà di decidere e di scegliere. Mi auguro senza pregiudizi, ma guardando al progetto che non è solo un insieme di idee, ma un impegno, una promessa, un'assunzione di responsabilità che mi assumo in prima persona, con forza e con determinazione. È una sfida di cui accetto tutte le avversità, semplicemente perché io credo, fermamente, nel progetto politico Destinazione Agropoli, conclude Massimo Laporta nella nota stampa.